Leaders per un mondo in evoluzione. Questa è la missione della nostra università. Per leaders intendiamo ottimi professionisti, eccellenti uomini d'azienda, imprenditori credit. Da qui il nostro approccio integrato di analisi, al tempo stesso strategico e sistemico di impresa. Il nostro obiettivo è formare professionalità riconosciute nel mondo dell'impresa. È necessaria una conoscenza tecnica, profonda nella specializzazione ma interdisciplinare, o meglio transdisciplinare, fondata cioè su di un approccio intellettuale e culturale, scientifico e operativo finalizzato alla piena comprensione della complessità del tempo presente e orientato a costruire una realtà migliore per le generazioni future. Il nostro corso di laurea in International Business Administration offre le conoscenze e le metodologie per la comprensione dei diversi profili della strategia e gestione economico-finanziale. In particolare l'indirizzo in Financial Management consente di acquisire una superiore competenza in materia fiscale e finanziaria. È preeminente l'ottica interdisciplinare nell'ottimale bilanciamento tra profili giuridici e aspetti economico-aziendali. Così pure fornisce una esemplare preparazione relativa alle dinamiche aziendali, con una solida impronta internazionale e tecnologica. Lo studio è focalizzato sugli aspetti manageriali dell'impresa e sulle opportunità di crescita legate all'innovazione, alla comunicazione multimediale e all'innovazione. Ma l'eccellenza degli insegnanti non basta. Il nostro compito come docenti è fornire il supporto per ragionare sugli sbocchi professionali, in ogni settore e in qualsiasi. Ma quali gli sbocchi professionali del nostro giuridico? Imprese e giovani nazionali come collaboratori di imprenditori, uomini di azienda o responsabili di funzioni, di business o di merda. Multinazionali nelle diverse funzioni aziendali, nell'area amministrazione finanza e controllo e in ruoli di dirigerci, CIO, CFO, società di consulenza come business consultant o analyst, studi professionali, start-up, imprese familiari, centri studi e ricerca. Un percorso con noi è garanzia di impegno. I nostri sforzi, con i vostri sforzi, sono la garanzia per una carriera di successo.